È stata fissata per il 15 maggio davanti al GUP di Verbagna l'udienza preliminare per 41 imputati dai vertici agli impiegati dello sportello delle filiali di Veneto Banca. L'accusa nei loro confronti è di truffa aggravata in concorso. Le richieste di rinvio a giudizio firmate dalla PM Sveva Deliguoro sono state accolte dal GIP che ha fissato l'udienza. I casi presi in esame nel fascicolo sono 139 per 44 persone offese che potranno decidere se costituirsi parti civili al processo. I fatti riguardano il periodo tra il 2011 e il 2016. Secondo l'accusa, i dipendenti della banca in concorso con i vertici dell'Istituto di Credito avrebbero consigliato ai clienti di acquistare pacchetti finanziari senza informarli adeguatamente sui profili di rischio. Le cifre andate in fumo con la svalutazione delle azioni sono di centinaia di migliaia di euro. Il Movimento Difesa del Cittadino annuncia di volersi costituire parte civile al processo per sé e per conto dei risparmiatori assistiti. Sempre il Movimento Difesa del Cittadino, comunica il Presidente Ettore Francioli, farà partire a breve anche l'azione di risarcimento contro Price, Waterhouse & Coopers, revisori dei conti di Veneto Banca, dopo una minuziosa istruttoria ed un'analisi del materiale probatorio durata quasi tre anni. Sono stati anche organizzati i due incontri il 12 febbraio dalle 15 alle 17.30 e il 13 dalle 10 alle 12 nella sede del Movimento Difesa del Cittadino in via Simonetta a Intra.